Oggi con Italia a Tavola vi portiamo alla scoperta del Chianti, quello che i primi inglesi che lo scoprirono definirono il Chianti Shire. Un paradiso terrestre tra strade bianche eroiche, celebri macellai e importanti cantine, veri e propri gioielli di design dove ripostano i grandi vini. In una delle più belle colline con vista su Siena troviamo Vallepicciola, una cantina all'avanguardia di proprietà della famiglia Bolfo, una bella realtà con un grande futuro davanti grazie alla regia dell'enologo Alessandro Cellai. Oltre al San Giovese questi coltivano sapientemente vitigni internazionali. Vallepicciola offre la possibilità di vivere un'esperienza unica attraverso i tour in gip e tra i vigneti, per ammirare da vicino la bellezza dei terreni e dei vitigni da agricoltura sostenibile. Vallepicciola offre un quadro eccezionale della varietà di vitigni della zona di Piavasciata, ognuno con la propria unicità. 107 ettari di vigneti divisi in 12 zone nelle quali vengono coltivate 7 varietà di uve con charme e complessità mai banali. Una filosofia che lega il vino al suo terroir e all'ascolto del vigneto. La cantina, progettata da Margherita Gozzi, di circa 6.000 metri quadrati su due piani interrati, è un esempio ambizioso di architettura organica, pensata per creare un'armonia tra uomo e natura, integrando attentamente gli elementi costruiti con l'ambiente circostante. Dopo un'emozionante visita tra i filari e i vigneti, i visitatori possono concludere la loro esperienza con una degustazione dei vini di Vallepicciola, accompagnata da un delizioso taliere con prodotti locali di altissima qualità. A Radda, verso la metà del 1200, quartier generale della Lega del Chianti e nel 1924, sede del Consorzio Vino Chianti, il primo in Italia, una vera e propria istituzione è Casa Porciatti, dal 1965. Porciatti è garanzia di una bontà autentica e una qualità che si tramanda da generazioni. Da più di 50 anni delizia i palati con i suoi straordinari salumi di propria produzione come i prosciutti, le salsicce, i salamini o le ottime bistecche, carni selezionate di altissima qualità provenienti dai migliori allevamenti toscani. Nella sua bottega troverete preziosità gastronomiche di ogni tipo, tra cui spiccano la porciatella, il succulento lardone di Radda e il prelibato tonno di Radda. Oltre alla bottega e alla macelleria, Casa Porciatti vi offre ogni giorno i piatti più tradizionali della cucina toscana, preparati con le ricette di una volta e pronti da gustare. Lungo il camminamento medievale, in un suggestivo locale del 1300, si trova infine l'enoteca e wine bar di Casa Porciatti. Riccardo, appassionato sommelier, accoglie i suoi ospiti con 900 etichette, il meglio dell'energia italiana, dando la possibilità di degustare 30-40 vini al bicchiere. In abbinamento troviamo il pulled pork del porciatti con finocchietto e contorni, la zuppa di cipolla gratinata al pecorino di rocca e i deliziosi salumi della macelleria. Un viaggio culinario assolutamente da non perdere. Un viaggio nei pianti rigenera il corpo e la mente e le emozioni che vi lascia vi accompagneranno fino a quando non tornerete di nuovo a passeggiare tra queste vini.